Innanzitutto ci saremmo aspettati, Ministro, le sue scuse, perché abbiamo chiesto questa audizione nei giorni immediatamente successivi a quei fatti e la sua assenza è assomigliata a quella di un coniglio che scappa davanti alla paura. Penso che si renderà conto anche lei che parlare oggi di quei fatti, quantomeno ha un senso di beffardo, perché il tempo che è trascorso li rende assolutamente superati e non penserà certamente di passarla franca, perché venire qui in quest'Aula a parlare, o meglio, a leggere un documento che le hanno preparato al Ministero, così come fosse una datilografa che legge gli appunti di stenografia, francamente da parte del Ministro degli Interni ci aspetteremo un qualcosino di più. Se non che vede il suo atteggiamento e il suo comportamento, conferma un'opinione diffusa, quella che lei sia una comparsa all'interno della compagina del Governo, molto comoda rispetto a un Presidente del Consiglio dei Ministri, che con la sua personalità ovviamente non ha bisogno attorno di gente che pensa o gente che prende iniziativa. E in questo senso purtroppo ci resta l'amarezza di constatare che la sicurezza, che la gestione degli interni nel nostro Paese è affidata a una persona che ha la sua levatura, la levatura di chi scappa davanti al Senato che chiede informative il giorno dopo, la levatura di chi non si confronta con i cittadini. Perché lei ha ricordato giustamente che Roma è una città che sopporta il carico e il peso di parecchie manifestazioni ogni anno, tre al giorno, statisticamente. Non si ricorda però che tra queste manifestazioni ci sono anche quelle dei poliziotti e degli altri agenti della Polizia che non riescono più a far fronte al proprio dovere perché da lei abbandonati. Questo non se lo ricorda. Oppure ha paura di confrontarsi con queste situazioni. Questa è la lettura. Questo è quello che i cittadini vedono. E allora noi, Ministro, non possiamo che ricordarle le sue responsabilità. Perché siamo in un Paese dove il turnover sulle forze dell'ordine è stato bloccato. Dove si pensa che il Governo lavora invece alla chiusura dei presidi di sicurezza e di tutela del territorio. E non ci venga poi a dire che occorre l'esercito sul territorio. Basterebbe che le forze dell'ordine, Carabinieri, Polizia e tutti gli altri operatori del comparto sicurezza avessero almeno un Ministro che li difende all'interno del Consiglio dei Ministri. Almeno un Ministro che ne prenda le difese. E allora qui mi viene da chiedere ma lei con chi sta? Con il questore di Roma o con il Sindaco di Roma perché altrimenti perde il posto di lavoro. Perché sono due le figure opache in questa vicenda. La sua e quella del Sindaco Marino, dove il Sindaco Marino accusa il questore e dove lei non prende posizione negli istanti immediati rispetto a quei fatti per difendere le forze dell'ordine. Resta in silenzio. Questo è quello che è avvenuto. E la sua scelta di lasciare trascorrere giorni per alleggerire il ricordo di quei momenti non paga. Perché i cittadini l'insicurezza la sentono tutti i giorni. Perché quando si apre un giornale o si sente il telegiornale ci si accorge che ci sono persone che debbono armarsi in casa per difendersi. Che ci sono forze dell'ordine che non hanno più neanche la garanzia di poter operare senza passare loro stessi dalla parte del torto. Perché c'è un Governo che non li difende rispetto ai criminali. Perché siamo in un Paese dove se un benzinaio difende un altro cittadino che viene rapinato, passa nel torto e il Governo non lo difende neppure. Questo è quello che lei deve venire qui invece a dire che non è vero perché sta operando in senso contrario. Ed è facile venire a dire che bisogna dare più potere ai sindaci. Quando furato più potere ai sindaci con il pacchetto sicurezza, e lei sa benissimo di cosa parlo, perché che era in quel Governo. E il Ministro degli Interni era Roberto Maroni. Il successivo Governo da lei sostenuto tolse quei poteri ai sindaci. E oggi lei esce con un'agenzia dicendo che è importante, bisogna ridare ai sindaci potere. Bene, lo sa, Ministro, ho ricordato proprio ieri in quest'Aula la circostanza banale di un sindaco che si trova a dover ricevere il giuramento di un cittadino straniero che ha ricevuto la cittadinanza italiana dal Presidente della Repubblica e non sapeva neppure leggere italiano. E di fronte a questo lo sa che cosa ha fatto il prefetto di Varese, visto che il sindaco ha fatto un ragionamento molto semplice, come si può completare quest'atto quando per di più mancavano addirittura documenti. Il prefetto gli ha dato la cittadinanza lo stesso. La morale qual è? Quel sindaco non conta nulla! E lei ci viene a dire che qui oggi bisogna dare più potere ai sindaci. Ma se i sindaci li avete abbandonati nell'amministrazione ai comuni, i sindaci che sono l'ultima tutela dello Stato rispetto ai cittadini. Bene, Ministro, le cose su cui occorre invece operare, glielo diciamo noi quali sono. Aggiungete e completate l'organico dei sovrintendenti e andate anche a prendere quei 17 mila ispettori che mancano, perché è una carenza inaccettabile quella che stanno subendo le forze dell'ordine. istituite finalmente un corso che formi le nostre forze dell'ordine all'antiterrorismo, perché non occorre in questo caso mettere l'esercito. Bisogna dare solo motivazioni a chi sul campo è per professione dedicato alla tutela delle forze dell'ordine. Queste sono le cose da fare. Non pensate semplicemente a fare nuovi concorsi per poter illudere la gente, riprendere un posto di lavoro. Fate scorrere le graduatorie, attingente a quelle che già esistono e date certezze immediate ai cittadini che ci possano essere nuovi agenti di polizia o del carabiniero o delle altre forze di sicurezza. Presidente, noi non siamo per niente soddisfatti di quello che il Ministro ci ha riportato oggi, perché è frutto semplicemente di una lettura approssimativa di un documento qualsiasi. E non occorre andare al 1997, Ministro, per trovare degli appunti di giornale che, come le citazioni più inutili evacue, diano supporto a un discorso che non ne ha. Non occorre andare a dire che si rischiano crisi diplomatiche se si vanno a prendere quattro criminali e si mettono in galera. Bisogna fare rispettare le leggi e se in questo Paese vengono stranieri da qualunque parte del mondo e non rispettano le leggi di questo Paese, devono andare in galera e i cittadini devono essere sicuri di avere al Ministro dell'Interno una persona che fa rispettare la sicurezza, non una persona che semplicemente è compiacente nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e che ha anche paura a confrontarsi con il Sindaco Marino, perché sappiamo benissimo che siete tutti e due legati allo stesso guinzaglio. Questa è la cosa di cui si deve vergognare.